carissimi parrocchiani della parrocchia di santa origida parrocchiani di altre parrocchie che ci seguono ogni settimana per la nostra meditazione domenicale amici e benefattori eccoci qua nel cammino della cuaresima abbiamo cominciato mercoledì con l'imposizione delle ceneri le ceneri non sono un sacramento non sono un sacramentale sono solo un segno che ci ricorda che siamo della terra e alla terra torneremo però il cammino nostro è per salvare l'anima che dio ci ha dato come sua immagine che siamo stati creati la cuaresima è un tempo di preparazione per celebrare il triduo pasquale però come preparazione accompagniamo i neocatecumeni nella preparazione per ricevere durante la vigilia della pasqua i sacramenti del battesimo della cresima e della santa eucaristia per noi battesati è anche tempo di preparazione perché ci prepariamo per rinnovare nella stessa celebrazione le nostre promese battesimali rinunciare al demonio e alle sue manifestazioni diaboliche e poi riaffermare la nostra fede in dio padre creatore nel suo figlio redentore nello spirito santo santificatore nella chiesa che è l'immagine di dio ecco con questa intenzione celebriamo noi la quaresima però dobbiamo pensare cosa ci dà la chiesa per camminare lungo questa quaresima la chiesa ci dà fondamentalmente con la preghiera e la penitenza ci dà tre cose lo spirito di preghiera che deve accompagnare il nostro cammino per avvicinarci più a dio e per reggettare tutte le opere di satana per quello ricordiamo nel nostro battesimo quando i nostri genitori e padrini ci hanno preceduto perché noi eravamo piccoli e loro stessi nel nostro nome hanno detto che dobbiamo e le erano disposti a rinunciare al peccato a satana alle sue opere ai suoi inganni e pronti a proclamare la fede nel dio creatore padre figlio e spirito santo la chiesa ci chiama a esercitare la carità come un mezzo che fa vedere che ci siamo noi negati a noi stessi nel prendere qualcosa e traduciamo quel qualcosa in positivo in soldi che possiamo noi accumulare per darli ai bisognosi poi abbiamo il digiuno e l'astinenza come due grandi cose che ci aiutano a controllare i nostri desideri perché dietro ai nostri desideri molte volte si nasconde satana e così ci indebolisce dall'interno e così rimaniamo noi lontani da dio ringraziamo la chiesa che ci dà questa opportunità viviamo questo tempo di grazia è un tempo di grande grazia nella chiesa perché attraverso la conversione che si sperimenta nella confessione di molti certo diventa un tempo di grazia di presenza dello spirito santo accogliamo questo tempo accogliamo la chiamata della chiesa camminiamo con fede con speranza e con molto entusiasmo perché celebremo poi insieme il giorno della pasqua cristo ha vinto la morte e noi siamo stati salvati arrivederci